Musica Siamo nello stand della Siace dei fratelli Gelmini e con Ferdinando Gelmini andiamo a presentare quello che è il vostro top di gamma, le doppiette Sì, una doppietta in calibro 28, questa è la versione Superlight L quindi è la versione Superlight con cartella lunga, è una finta cartella perché questa è una meccanica box lock, quindi non side lock è un classico Hanson Dilly La doppiettina si presenta con un'incisione tutto interamente fatta a bulino con dei soggetti scine di caccia con delle geminature in oro nelle parti brunite della minuteria quindi la croce, la guardia lunga del calcio gli inserti nelle canne e la chiave di apertura È presente in vari calibri? È presente in vari calibri, questa versione la facciamo dal 12 al 410 qui abbiamo un calibro 28, canne integrali calcio all'inglese, un grado 3 Questa è in monogrillo, inusuale per una doppietta però facciamo anche le versioni monogrillo, monogrillo meccanico ovviamente queste nascono bigrillo e monogrillo è un optional, quindi è a scelta Asta all'inglese, con finitura con bocchetto e vite passante con una goccia in metallo, appunto per dare anche più tenuta alla meccanica estrazione automatica, questo è un classico 71-3-1 ovviamente poi il fucile è personabilizzabile al 100% qui montiamo anche una bindella piana, si può montare anche una bindella concava non c'è nessun problema si può avere un calcio a pistola o principe di galles scegliere appunto la qualità del legno noi qui la presentiamo con un legno grado 3 si parte comunque per questa versione dal grado 3 in su ovviamente quindi abbiamo detto infatti è un top di gamma si esatto, si parte appunto da quello detto questo non c'è altro l'arma così come la si vede l'abbiamo personalizzata noi così appunto per l'evento ma ripeto anche le incisioni uno può scegliere anche in base al tipo di caccia che fa di personalizzarla con non so, il calcio, il fagiano piuttosto che e poi naturalmente qui avete portato tutta la vostra gamma di fucili abbiamo portato tutta la gamma di fucili sia sovrapposti che doppiette in vari calibri, varie versioni sia i leggeri per le beccacce nel sovrapposto con bascole in Ergal e le versioni in acciaio, abbiamo portato gli express quindi la canna regata i piccoli calibri sia nelle doppiette che nel sovrapposto Siace dei fratelli Gialmini è a Gardone Valtrompia nella culla della produzione armiera sì siamo a Gardone Valtrompia si intuì internet www.siacearmi.com ci trovate in Gardone tutta settimana facciamo orario d'officina 8.12.14.18 il sabato mattina dalle 8 alle 12 grazie 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 grazie